Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati in un video aggiornamento velocissimo allora siccome ho deciso che la serie è quella che sto facendo adesso in singolo praticamente voglio cominciare in multiplayer con quella serie la mi basterà una persona solo giusto per darmi una mano quindi per velocizzarla anche in modo che finisca prima così da poter iniziare quella in multiplayer fatta bene con una mappa diversa con belle mode che dopo darò perché farò un pack con tutte le mie mode lo farò pesare all'incirca sui 2 gigabyte dove ci sono dentro tutte le mode che ho tranne qualche trattore che comunque sto già cominciando a cancellare anche John Deere che non uso Fended sto facendo una pulizia pazzesca intanto però ho selezionato circa 25 mod quelle che appunto mi servono nella serie cioè qui dentro ci sono praticamente tutto il pack Ford poi manca il DLC di farming che ovviamente ve lo scaricate voi poi ci sono tutte le mode che servono per la serie c'è anche l'imballatrice nuova che è appunto quella che funziona ho aggiunto già la grime quella per le patate e ci sono le slimiter, le class, le barre, le cose, le trince, i carri c'è già tutto cioè avendo questo in teoria voi potreste giocare in multiplayer con me anche il caricatore per le balle automatico l'ho modificato ancora e quindi questo funziona anche in multiplayer l'ho già testato prima con Bull Deere che mi ha dato una mano quindi adesso spero che riesco a caricarle abbastanza in fretta ad avere anche il link altrettanto in fretta perché non dipendono da me e niente questo video appunto velocissimo solo per dirvi che sapete che ho bisogno di una persona per andare avanti con la serie quindi va bene adesso potrebbe essere che prima faccio qualche video da solo nel senso come pack e test mode visto che magari poi la serie è un po' complicata anche perché bisogna organizzarla anche in modo diverso provare, vedere che la connessione non l'ha, che tipo oggi avevo una connessione pessima eccetera eccetera non so se avete visto è uscito il video del vincitore del contest e niente anche per questo brevissimo video di aggiornamento è tutto ciao a tutti e alla prossima, ciao ciao